Sabato, domenica e lunedì sono stati complessivamente effettuati 71.000 test su cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna. 1.900 sono risultati positivi asintomatici, pari al 2,65%. Lo screening continua anche oggi a Palermo, a Siracusa, a Vittoria e a Chiaramonte-Gulfi ed è riservato alla popolazione scolastica, personale docente, non docente, studenti e relativi nuclei familiari. Si procede al prelievo del campione per il tampone rapido, che in caso di positività viene eseguito dal tampone molecolare per la necessaria conferma. Da questa settimana c'è la possibilità di prenotarsi sulla piattaforma SiciliaCoronavirus.it. Basta cliccare su Tampone rapido Covid-19 e compilare il modulo di registrazione, scegliendo la data disponibile tra i drive-in proposti. La piattaforma provvede a indicare la fascia oraria, che viene generata automaticamente in base al numero di prenotazioni già acquisite. La Sicilia è stata la prima regione a dotarsi di tamponi rapidi, acquistando un primo stock di 2 milioni di test. Centinaia di volontari della protezione civile stanno collaborando con il personale medico-sanitario impegnato nello screening di massa.